Pensiero del giorno di Don Giuseppe Tommaselli Un orfanello aveva trovato una moneta lungo il sentiero. Avrebbe potuto appropriarsene, poiché è impossibile trovarne il padrone. Avrebbe potuto sovvenire a qualche urgente bisogno, ma non lo fece. Pensò di far celebrare una santa messa per i genitori defunti. Il Dio gradì il pietoso atto e venne in soccorso dell'orfanello. Quando questi chiese il sacerdote la celebrazione della messa, suscitò l'interessamento del ministro di Dio. Tu sei privo dei genitori e fai bene a ricordarti di loro, ma come vivi al presente? Faccio il pastorello. Ti piacerebbe studiare e divenire sacerdote? Lo desidero tanto, ma non ho i mezzi. E se ti aiutassi io? Non saprei come ringraziarvi. Da quel giorno il fanciullo lasciò le pecore e si diede allo studio. Poteva un giorno divenire sacerdote, poi cardinale ed anche santo. Forse la chiesa non avrebbe avuto San Pier Damiani se questi da fanciullo non si fossero ricordati di suffragare i genitori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti